La donna di 95 anni, rimasta ustionata nell'incendio della sua abitazione, provocato da una stufa, è morta dopo cinque giorni di agonia. Con lei c'era il figlio di 53 anni, anche lui investito dal fuoco alimentato dalla stoffa di un divano. Entrambi erano stati ricoverati in ospedale, la donna nel reparto di terapia intensiva al San Giovanni di Dio di Agrigento, in condizioni critiche, e l'uomo al Cannizzaro di Catania. Il quadro clinico dell'anziana è improvvisamente peggiorato e il suo cuore ha smesso di battere. L'incendio si è sviluppato all'interno di una abitazione in via Maggiordomo, dove erano subito intervenuti i vigili del fuoco, riuscendo a portare madre e figlio fuori dall'appartamento prima che venissero divorati dalle fiamme. Oltre alle ustioni, avevano riportato una grave intossicazione da fumo, talmente intenso da non consentire a entrambi di mettersi in salvo, rischiando di rimanere intrappolati tra le mura di casa.